Salve a tutti amici di Youtube e bentornati da Dr. Memex Oggi guarderemo cosa è CPU-Z e a che cosa serve Allora, prima di tutto CPU-Z non è altro che un piccolo programma che ci permette di vedere tutte le caratteristiche hardware del nostro computer e vedremo tra poco perché è così importante conoscere le caratteristiche hardware del nostro computer Quindi come prima cosa possiamo cercare ovviamente su Google CPU-Z e apriamo ovviamente il primo risultato Vediamo già subito che abbiamo la disponibilità di avere sia la versione per Windows che la versione di Android di CPU-Z Ovviamente per Android ci permetterà poi di vedere tutte le caratteristiche del nostro smartphone Quindi se vi interessa controllare tutte le caratteristiche del vostro smartphone Andate sul Google Store e andate a scaricare e installare da lì Noi ovviamente adesso controlleremo delle versioni per Windows Quindi scendiamo, scrolliamo la pagina e vedremo che qua abbiamo la versione setup con versione inglese disponibile sia per 32 e 64 bit Quindi questo significa che possiamo andare ad installare tranquillamente senza nessun tipo di problema questa versione Ovviamente possiamo installare anche la versione zippata quindi la versione compressa ma solamente andremo poi successivamente ad estrarre questo file Infine abbiamo sia il setup in lingua cinese che la versione zip anch'essa in versione cinese e ovviamente la versione per Windows 98 per chi ha bisogno di utilizzare CPU-Z su vecchie macchine Quindi dopo aver effettato il download e fatto la semplice installazione sempre avanti avanti si ok installa andremo a lanciare il nostro CPU-Z Questo in sostanza è il programma di cui stavamo parlando e quindi ci interessa sapere tutte le caratteristiche del nostro computer per svariate motive solo anche e semplicemente per...